Ciao ragazzi, sono appena arrivato a Praga, l'entrata è stata un po' insolita, ma vabbè. Guardate la casa, incredibile, tutto a merito della Pico. Guardiamo anche il salotto. E poi ovviamente, si stai quadrando il salotto? Certo. E poi ovviamente ci sono due fighe incredibili, giusto? Esattamente. Ci sono le sorelle gemelle del Dye. E quindi qua, come diceva Maxi Bohm, non so se si può dire quello che diceva tra cui sa, Du gustis is meglio che one. Incredibile ragazzi, andate a vedere la scena perché merito. Allora ragazzi, benvenuti. Oggi mi porto qua, in questo tavolo, in questa villa incredibile, le incredibili fighe spaziali, per di più, sorelle gemelle, è Evelyn e Silvia, dell'AI, giusto? Ciao, ciao, sì. Quindi vi chiedo se, cortesemente, potete introdurvi da sole. Ok, allora, noi siamo, come ha detto, le sorelle di Lightbeats gemelle. furbelle. Furbelle. E sempre belle. E borcelle. E borcelle. Borcelle. Abbiamo, cosa, 25 anni. Viviamo a Praga. Siamo italiani. Sapete questa storia lunga, no? Oggi siamo qua con il nostro amico, best friend. Best friend. Facciamo una, una breve scena, una scopatina. Che ce la fa? Ce la fai? La speriamo? Ce la fai? Dai! C'è, ce l'è. Allora, vi faccio la domanda, ma quanti ne avete presi in tutto? Oh, che ne sono? Ah, tanti, tanti, tantissimi. Io non, io non le conto mai, anch'io no. Tu sì? Ma che io non le ho prese? Allora, abbiamo fatto questi amici, e facciamo porno, porno star. Molto spinto, tra l'altro, hai visto? Cioè, hai fatto scena abbastanza anche complicate. Ah sì? Sì, certo. Mi fate doppie anali. Tripla anali. Tripla anali? Sì. Vado? Io, io sono speciale per anali e per tante queste cose gangbang. E per peace? E per peace per perché così mi piace gangbang. Fisting hai mai fatto? Sì, sì, certo. Fisting di anali di pina. Cos'è? Cos'è messo dentro il fisting? Ah, tutto quasi. Come? La mano, no? La mano, anche la besta. E mi piace che, come si dice in Italia, che qualcuno mi dà un'offerta, ecco, un'offerta e io voglio essere quella che ce la fa. Come si dice? Sfida. Ah, la sfida? Ho capito un'altra roba. Ah, sì, cosa? Ho capito un'altra roba. Ah, sì, qua, vè. Ho capito tipo che hai dato offerta, ho capito tipo quei video che dicevi prima. Ah, no, 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 no. Che cazzo. Così. E cosa possiamo ancora dire? Perché avevo iniziato a fare porno? Perché una volta mi ha scritto un ragazzo, un ragazzo che fotografa. Un fotografo? Un fotografo? Un fotografo, sì, così. E' un'offerta per l'America, tipo di foto erotici. Dai, basta, Silvia. Erotici, io ho detto di sì. Ho fatto queste foto, dopo sono andata a fare il casting e mi piaceva tanto. E poi ho scoperto che lei ha fatto porno perché mi ha chiamato Silvia, Silvia mi ha fatto porno. Ma cosa hai fatto? Ok, lo dico ai genitori. Ho detto perché lei non voleva dirlo, lo voleva che io le dico, l'ho detto. Sì, così. La mamma sorpresa, piangeva, papà non so, non mi ricordo più. E dopo la mia sorella mia ha chiesto se voglio anche io. Era la mia top idea. E io ho detto no, non voglio perché sono timida. Ma io ho detto sì, Silvia, tu vuoi. Dopo due mesi passati sono arrivata a Praga, ho girato il primo film, mi ricordo, il secondo film, perché era Game Man. E siamo qua, adesso con questo ragazzo e sono già quattro anni. Ti stiamo insieme. Prima l'ho bloccato. Sì, mi avevano bloccato su Instagram, questa è una roba gravissima, non so perché. Cioè, abbiamo chiarito. Sì, non lo sapevo perché quando ho visto sul mio profilo che mi taggano tanti ragazzi, ragazzi anche giovani, ho detto ma cosa? Sì, il mio mondo è troppo piccolo. Eh sì, e ho pensato che era un ecolo o un virus o un cifo. O quelli, o quelli che scrivono troppo, troppo. Ma si vede che è simpatico e quindi possiamo cominciare la nostra challenge. C'è la challenge? Sì, dici. Vabbè, quindi cosa? Chiudiamo il video, diciamo? Io non ho detto un cazzo, ma va bene comunque. diciamo.